La crisi dell'Agropoli potrebbe dipendere da diversi fattori. In primis mentale, evidentemente lo sforzo delle 13 partite, senza mai perdere il contraccolpo psicologico della sconfitta sonora di Sarno, hanno inciso non poco nella testa dei delfini, che oltre a errori individuali mai fatti e la mancanza di risultati, hanno nito anche un profondo calo fisico e di gioco. L'Agropoli visto a Buccino, ma anche precedentemente, sembra lontana parente della squadra del girone d'andata per intenderci. Le parole del presidente Cerruti, dure nei confronti dei diffusi, potrebbero anche aver destabilizzato uno spogliatoio che ha perso certezze e riferimenti. Qui c'è un'unica soluzione, l'intervento è la mano dell'allenatore e già dalla prossima partita ci si aspetta una reazione per non vanificare tutto quanto di buono fatto finora. Il problema è che la prossima è con il Sapri, che si trova in una zona di classifica difficile e giocherà con il sangue agli occhi un derby che a questo punto diventa destabilizzante per chi lo dovesse perdere. Ad Agropoli si aggiunge un ulteriore problema, il campo. Si dovrebbe giocare a Capaccio, ma è ancora da capire perfettamente la situazione, in quanto la Calpazio gioca domenica e in casa contro il Santa Maria la Carità. Entro stasera avremo tutti i dettagli. Già, Sapri che continua a soffrire contro le piccole e non riuscire a schiodarsi da una situazione di classifica che per rosa il gioco non dovrebbe preoccupare, ma per gamba e testa preoccupa come. D'altronde siamo con la prossima la giornata 23 e siamo verso i tre quarti di campionato, ovvero dove le squadre dovrebbero dare sprint e risultati alla loro classifica. Ma nel caso dell'Agropoli e del solito Sapri la situazione sembra all'inverso. Analizzare la situazione di entrambe sembra complesso. La testa è in primis e qualcuno dice la rosa corta, senza adeguati ricambi. A Sapri sostanzialmente non hanno mai trovato il modo di allungare la coperta e Graziani, ottimo allenatore, sottolineiamolo, ha dovuto arrangiarsi casarecciamente, inserendo spesso giocatori fuori ruolo. Ad Agropoli il calcio mercato invernale non convince e coincide col periodo di regresso. Certo che arrivare al derby con queste premesse non è il top. Anzi, purtroppo chi perde è in crisi nera, non perduto ma sicuramente sarà dura poi rialzarsi mentalmente. Chi vive invece un periodo felice della stagione è la Calpazio. Santo Sosso l'ha plasmata, modificata, tatticamente corretta e la squadra va che è una meraviglia. Margiotta, divenuto papà nelle scorse ore di una splendida bambina, auguri a lui, gongola e continua a fare la differenza senza induggi. Poi un calciomercato oculato ma centrato, con Kappaman, portiere di livello, chiacchio importantissimo nel far salire la squadra e un manipolo di ragazzini pescati qua e là che hanno permesso alla squadra di salire a 31 punti. Oro colato per una neopromossa che non vuole fermarsi e domenica a Capaccio c'è il Santa Maria la Carità. Chissà mai fosse ancora Vittoria si andrebbe spediti verso la quota salvezza, oramai vicina, e si potrebbe sognare con la spensieratezza delle abbiate a gioventù. Al campo le ardue sentenze.